Ciao ragazzi, sono Attias, siamo qui all'Expo Milano 2015 al padiglione Italy. Rappresento il Friuli, Grado, l'isola del sole, il mare, il pesce e niente. Tavernetta Landrona è il mio ristorante, le specialità sono di pesce come dicevo. Il pesce fresco a grado non manca, per cui Italy ci ha chiamato e noi abbiamo risposto a questo grande evento, è un grandissimo piacere. Per questo mese abbiamo preparato delle seppie in insalata su un'isticanza con sedano croccante, delle olive e dei pomodorini confitte come antipastino. Poi abbiamo preparato una zuppa, una zuppa con un'antica ricetta ancora di mio nonno, con del crostone di pane e poi uno spaghettino con le lici salate del mare di Cantabrico e i pomodoro fresco. E per finire il fritto, che secondo me è l'eccellenza del pesce, si è fatto bene. Anche il fritto abbiamo dei calamari, dei gamberi, polenta fritta e poi ci mettiamo le aquadelle, il palombo, un bel piattino gustoso. Come dolce abbiamo preparato un biscotto al cioccolato Domori, con una mousse al semifreddo al caffè d'Illi e una panna aromatizzata all'amaro nonnino. Questo per restare un po' in tema anche del Friuli. E niente, vi aspetto volentieri qui a Expo e a grado, Friuli, Tavernita Landrona. Un saluto a tutti, ciao! Grazie a tutti!